La prima cosa è andare a prendere un'altra, l'altro braccio a punta, la mano sinistra La sciocca, fra un leggero e l'altro, in questo caso riformiamo la mano, prendiamo l'esercizio in tre, uno, due, tre, uno, due, tre Questa mano controlla, questa mano, può essere, possiamo capire, avete uno scolto, intercettando il soffino di direzione Questa è la mano, andiamo a portire, prendiamo la strada bloccata, la mano più del verso l'unico, mano, l'occhio, la bravo, portire, pugno, gomito, uomo, testa, le variabili sono davvero diverse Allora, partiamo con l'esercizio in tre, uno, due, tre Molto recycalo, uno, due, tre, due, 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 due Ok, quando troviamo, troviamo lo scenario ed accad Truth andiamo dritti avversando grazie, ciao guerrieri, alla prossima